Un vento nuovo soffia Confindustria Teramo. Rinnovati il Consiglio Direttivo, le cariche statutarie, lo statuto e c'è un nuovo presidente, Lorenzo Dattoli, 48 anni, laureato in Ingegneria Meccatronica, votato ed eletto all'Uranimità. L'obiettivo principale della squadra di oggi al vertice dell'Unione degli Industriali Teramani è quello di rafforzare il tessuto imprenditoriale di Teramo con azioni per lo sviluppo di impresa e nuovi servizi. Come scritto nel programma, il primo obiettivo è quello di cercare di rafforzare l'Associazione Teramana, di renderla più presente e più vicina a tutti gli industriali teramani, il che potrebbe anche ad un rafforzamento di tutto il tessuto sociale di Teramo. Com'è la situazione dell'imprenditoria teramana in questo momento? Fortunatamente posso ammettere che tutti gli imprenditori teramani sono molto avvezzi, hanno le spalle molto larghe, quindi riescono ad affrontare questa situazione un po' più difficile che si è verificata negli ultimi anni, ma che comunque avrebbero bisogno anche di essere affiancati da noi come associazione e cercheremo di portare per loro molti più servizi ed una presenza più massiva. Ecco, cosa può fare Confindustria per loro, esattamente? Confindustria può fare tanto, bisogna costruire e bisogna cercare di portare al loro servizio tutti quegli strumenti che potrebbero semplificarne o quantomeno dare possibilità di accesso a possibilità maggiori rispetto a quelle che uno da solo potrebbe incontrare. Il neopresidente Dattoli sarà affiancato da tre vicepresidenti, Massimiliano Bolognesi, Gianni dell'Orletta e la giovane Erika Rastelli della Aran Cucine. Come si è così giovani e così importanti già? Con l'impegno, con la dedizione nel voler portare etica nel nostro mondo dell'economia, con l'impegno quotidiano e con tanta voglia di fare. Stiamo trattando temi fondamentali come il PNRR, i cambiamenti climatici, siamo tutti impegnati per l'agenda ONU del 2030, quindi ritengo che sia un momento fondamentale per la nostra terra, per le nostre industrie e per stare al passo con i tempi. Nell'illustrare le linee programmatiche del suo mandato da presidente di Confindustria Teramo, Lorenzo Dattoli ha escluso categoricamente ogni tipo di fusione con Pescara, almeno per il momento.